...del museo di Valdano, essendo incinta, non è riuscita a partecipare. È un progetto molto interessante, l'ho citato stamattina proprio perché è stato un progetto di local per questa nuova unione di comuni della Valsamoggia e hanno costruito delle carte, i ragazzi le hanno proprio disegnate, per fare un'operazione di storytelling sugli oggetti del museo. Quindi direi che passiamo a questo punto al progetto successivo.